La logica delle cose semplici, perché io sono per questo, per la cucina vera, una cucina fatta di materia. E questo è quello che infatti proponi sempre oggi. Sì, e un'altra cosa, dico sempre che sono moderno per quel tanto che mi concede la mia storia, ma vedo molti anni alle spalle, è logico che mi porto con me tante cose, tanta storia. Allora voglio rappresentare attraverso 70, 80, 90 foto di piatti miei e poi c'è tutto lo storico, gli oggetti che mi appartengono e che mi sono serviti e che mi servono ancora e poi accompagnato anche da convegni, da altre cose che magari faremo poi in Trientale, da seconda parte e poi un po' la spiegazione di questo mondo, di questi ultimi 80 anni, cosa è successo rappresentando anche i migliori storici degli altri storici di quale epoca. Scusa, forse questa è la cosa più interessante perché attorno alla tua persona, al tuo modo di rienterpretare e di rilanciare la cucina italiana c'è la storia in fondo della cultura e della tradizione del nostro paese e questo è quello che tu penso puoi rappresentare nella tua mostra. Perfetto. Ecco, perché questa è la cosa più bella. Tu parlavi anche degli oggetti perché bisogna... Non parlo solo di me, parlo di me, parlo attraverso me e di tutto il resto e di quello che è successo in questi ultimi anni. E quindi il modo anche di apparecchiare in tavola, di preparare, di portare i piatti. Assolutamente. Benissimo, tanti auguri allora anche per questa nuova avventura. Grazie.